buongiorno a tutti bentornati sul mio canale rieccomi nuovamente con un nuovo video questa volta è un po chiacchiericcio mi sono già truccata ho giusto quei dieci minuti e poi devo scappare però ci tenevo a farvi vedere qualche novità di or esattamente ieri ho fatto ieri e avanti ieri ho fatto il video dove mi truccavo appunto con la nuova palette una delle nuove uscite ed è la 556 questa qua vi lascio magari giù nell'info il link al video oggi il trucco che ho realizzato l'ho fatto con l'altra palette questa è a sei colori la nude volevo farvela vedere un attimino più in in dettaglio si presenta così sono sei colori i primi due sono molto molto chiari e pian piano diventano sempre più scuri quest'ultimo è un eyeliner mi sposto vi faccio vedere meglio il il make up ecco qua spero si riesca a vedere bene l'ho utilizzata anche ieri le mie prime impressioni sono positive diciamo questi due colori sono quelli che essendo molto chiari non si vedono praticamente niente ma gli altri sono bellissimi l'eyeliner un po un po chiaro vabbè ci passo un attimino di più si intensifica la palette credo costi intorno ai 50 euro io l'ho acquistata con il torna scontrino del 25 per cento è chiaro che come dire è una palette nude quindi bisogna appunto vedere se questo tipo di palette vi piacciono ecco io sono una fanatica a parte che mi piacciono proprio i prodotti di orma proprio le palette in generale lo sapete benissimo quindi io l'ho presa comunque perché mi piaceva ecco non so io la consiglio non riesco a dire ve la consiglio non ve la consiglio nel senso che chi magari ha già la naked basic magari ecco non tranquillamente li assomiglia ecco magari vi faccio vedere gli swatch più in in dettaglio sperando che si veda qualcosa questo è il primo colore è un poi passiamo al terzo che questo marroncino molto chiaro io l'ho utilizzato nella piega dell'occhio mi do una pulittina proseguiamo con il quarto questo rimane così questo è il quinto più scuro questo l'ho applicato per dare intensità profondità e poi c'è l'eyeliner che questo qua che è l'ultimo ecco prelevato diciamo più con più passate ecco rimane abbastanza scuro comunque ieri io l'ho utilizzata per la prima volta e gli ombretti sono rimasti su tutto il giorno certo io ho l'abitudine di usare comunque il primer sempre insomma io sono rimasta soddisfatta ecco poi è chiaro che è sempre un trucco nude c'è chi piace e chi non piace fatemi sapere magari cosa ne pensate voi con la collezione nuova è uscito anche il kajal io ieri avanti ieri l'ho utilizzato più all'esterno ma conto di utilizzarlo anche in altri modi spesso i prodotti nascono in un modo e si possono utilizzare anche in altro questo è il colore bellissimo come ultimo prodotto della collezione ho acquistato questo rossetto barra gloss nel senso che rimane piuttosto lucidino questo è il numero lo 004 ve lo faccio vedere si presenta così questo il suo colore ve lo faccio vedere qui molto confortevole eccolo qua e questi sono i pezzi diciamo che ho acquistato io è uscito anche un mascara su quel sempre sul verde un po più scuro di questo ma io non l'ho acquistato perché diciamo avevo un qualcosa di simile di pupa quindi preferito non acquistarlo è uscito anche il blush lo stesso ho preferito non acquistarlo ne ho diversi quindi diciamo ho passato diciamo per questo ci sono anche gli smalti non ho preso niente colori erano anche carini però ecco non nessuno mi ha fatto impazzire come questi prodotti vi faccio vedere il rossetto che indosso adesso visto che stiamo parlando di dior rimaniamo in tema e questo qua è il numero 775 e ho fatto il contorno sempre con la matita di orla credo sia uguale il numero 775 vi faccio gli swatch questa è la matita è leggermente più scura ma a me andava bene così e poi come ultima cosa che ho acquistato vi parlo di questo gloss il lip maxi mixer questo gloss io lo sapete per chi mi segue già da un po' lo sa io non amo i gloss questo però ha un effetto piacevole sulle labbra si sente una bella freschezza quando si applica rimane su non ha quell'effetto appiccicaticcio che tutti i gloss mi danno diciamo si asciuga anche abbastanza in fretta è molto piacevole ecco io tra l'altro prima di acquistare la taglia grossa c'è grande mi hanno regalato in profumeria la taglia piccolina la cerco un secondino ecco ditemi che succede anche a voi quando cercate qualcosa non la trovate mai eccolo qua questa è la taglia piccolina quando me l'hanno dato stavo ridendo troppo piccolissima sembra proprio delle Barbie eccolo qua è proprio minuscolo bellissimo quindi ho avuto modo di provarlo e mi è piaciuto molto per cui alla fine con con la possibilità dello sconto ne ho approfittato subito lo smalto che indosso oggi è Glory che strano è sempre Dior niente io ho finito spero di essere stata utile a qualcuna di voi fatemi sapere se non so volete vedere la palette all'opera magari interessa a qualcuno e ve la faccio rivedere nuovamente questa è la nude è uscita anche un'altra palette sui toni del marroncino per fortuna non mi ha fatto impazzire quindi l'ho lasciata lì non si può prendere tutto insomma bisogna anche fare una scelta e niente io vi mando un bacione scappo al prossimo video ciao